Un rilevamento dell'ARPAV segnala il superamento dei nuovi parametri FAS entrati in vigore a maggio e viene sospeso a Montebello Vicentino l'uso dell'acqua potabile. Un controllo dell'ARPAV nella vasca d'accumulo e distribuzione Castello ha infatti evidenziato per il parametro SOM di FAS un valore di 0.130 microgrammi per litro rispetto al parametro di 0.100 previsto dal decreto legislativo 18-2023 entrato in vigore per notte della regione il 30 maggio scorso. Così a fronte della comunicazione del MIS-8 Berica giunta nelle prime ore al Comune e alla società Mediochiampo il sindaco Dino Magna Bosco ha messo un'ordinanza che in via potenziale stabilisce la temporanea sospensione dell'uso dell'acqua potabile a scopo alimentare su tutto il territorio comunale fino al ripristino dei parametri di potabilità da parte dell'ente gestore Mediochiampo. I valori rinclusi scontrati sono di gran lunga inferiori al limite di vigore fino a poche settimane fa che era di 0.300. Pur non essendo ad oggi ancora stato definito il metodo analitico da adottare per tale parametro nel nuovo decreto appare potenziale per evitare qualsiasi ipotesi di rischio anche soltanto potenziale ed eventuale adottare questo provvedimento di sospensione temporanea dell'uso dell'acqua potabile a scopo alimentare con l'obiettivo di risolvere il più presto possibile i disagi ai cittadini. La comunicazione dell'Ulsa arriva pochi giorni prima dell'ultimazione con l'attivazione del filtri a carbone attivo prevista per il prossimo 17 luglio dei lavori di potenziamento della rete acquedottistica del sistema di filtraggio FAS0 iniziati qualche mese fa da parte di MedioChampo per un investimento di 800.000 euro.